E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. A Bologna per dare continuità alla striscia positiva. La Lazio di Simone Inzaghi si presenta al Dallara forte di un record. In trasferta ha sempre vinto e anche contro il Rosso Blu mette subito in chiaro l'obiettivo. Spazio a sinistra per Lulic, il cross dentro! Milinkovic-Savic! Lazio in vantaggio, subito in avvio! Secondo gol stagionale per Milinkovic-Savic. Poi inizia lo sfortunato show di Ciro Immobile. Riesce a trovare un bel barco per Luis Alberto. Palla a profondità per Immobile. Immobile, Pano! Per la prima volta da quando indossa la maglia bianco-celeste, l'attaccante fallisce dal dischetto. Luis Alberto. Un lancio in profondità, molto bello, il colpo di testa! E il gol del 2-0! Un gol incredibile per la Lazio! La Lazio domina il primo tempo, ma i quattro legni colpiti le impediscono di dilagare. E il conto con la sfortuna non è ancora chiuso. Il Bologna allora prova a profittarne. I rosso-blu si rianimano, ma dopo la distrazione la Lazio tiene fino al fischio finale. Per Inzaghi sono sette vittorie consecutive tra campionato e Coppa. Per Inzaghi sono sette vittorie diverse tra campionato e Coppa.